Certo che prenderò Zola e i feto. È quello che ho detto a Derek. Non li mandiamo in Ohio, dove cavolo sono le tue stupide sorelle. Sapevo che l'avresti detto. Dirigerò il branco di babysitter professioniste più competente mai visto. Prenderò solo tate tedesche, sono super organizzate. Non sono certa che un branco di tate tedesche sia ciò che avevo in mente. Aspetta, vorrai che stia a casa a fare la mamma. No. Già, perché tu non lo fai. Sì, certo, ma Zola è al nido qui e noi andiamo a prenderla. Sì, e tu fai il 30% di interventi meno di me perché non hai più tante ore ormai. Tu non vorresti farlo. Voglio bene a Zola. So che le vuoi bene, ma non vuoi farle da mamma? No. Le ho di sol serio, le sorelle? Più o meno. Però non tutte, Kathleen sembra una brava mamma. Cioè, non vorrei stare con lei tutto il giorno, ma i suoi figli sembrano sani. Beh, sì, non è poco. Senti, facciamo così. Scrivi nel testamento che io terrò i tuoi figli tre settimane all'anno. Viaggeremo, li porterò a farsi il primo tatuaggio in un posto pulito. Gli insegnerò come infilare il preservativo con un cetriolo. Ok. Sarò la zia più simpatica del mondo, ma non posso fare la mamma. Meritano di avere la mamma. Ma hanno già la mamma. Lo so. Non stai per morire, lo sai, vero? Non stai per morire, lo sai, vero? Dr. Web.